C'è una novità per chi deve richiedere il passaporto, dovrà infatti prenotarsi online prima di recarsi in questura. La prenotazione andrà effettuata attraverso il sito passaportonline.poliziedistato.it Il sistema restituirà la data e l'ora in cui dovrà presentarsi presto questi uffici con la documentazione. Il tutto per evitare file inutili dell'utente all'ufficio relazioni con il pubblico. Che sarà aperto e questa è un'ulteriore novità, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.00. Per registrarsi all'agenda passaporti è necessario utilizzare l'identità digitale, quindi attraverso l'opzione Entra con Speed oppure Entra con CIE. Una volta prenotati bisognerà presentare all'URP tutto il necessario per il rilascio del documento. E la documentazione è quella che viene indicata sullo stesso sito della nostra questura. Per l'esattezza viene richiesta la ricevuta del versamento di 42,50 euro intestato al Ministero delle Economie e delle Finanze e Dipartimento del Tesoro, il contributo amministrativo di 73,50 euro, due fotografie formato tessera specificando foto per passaporto, la fotocopia del documento di riconoscimento, eventuale precedente passaporto e la denuncia in caso di furto o smarrimento, e infine nel caso di minori si richiede la copia del documento di entrambi i genitori e la presenza degli stessi o la dichiarazione di assenso firmata dal genitore che non può essere presente. Per i minori di 14 anni bisogna anche indicare la modalità di accompagnamento.